Però al di là dell'orgoglio da ex sindaco di Firenze, oggi non parlerò di Firenze né di Fiorentina. Chi sta applaudendo è un tifoso romanista, beccatelo subito, anche lei romanista? Vabbè, lei le diamo il passaporto, non si preoccupi. Scherzi, scherzia, oggi non lo dico, vedo la madre preoccupata, è soltanto che si è giocata oggi Roma-Fiorentina, la Fiorentina purtroppo non ha perso. Vabbè, ogni tanto capita.